Inia Bastianini, tantissimi tifosi, il tuo fan club, innanzitutto partiamo da qui, avrai una tua casa dove si potrà acquistare tantissimo merchandising e dove i tuoi tifosi potranno seguirti in televisione. Sì, è una bellissima cosa, finalmente ho inaugurato oggi il fan club e sono emozionato perché c'è tantissima gente, quindi è bello vedere che ci sono tanti tifosi e vediamo, sembra una bella cosa. Passiamo alla parte sportiva, primo appuntamento in Qatar, purtroppo è andato male, cosa ci puoi dire, una caduta comunque fortunatamente senza conseguenze? Sì, è una scivolatina, però dai, alla fine ho visto che avevo un bel passo, peccato perché comunque sì, eravamo lì, ero riuscito a ricucire il gap e dopo un errorino, mi ha compromesso tutta la gara, però penso che potremo fare un bel campionato. Nei test prestagionali è rendato molto bene, poi appunto, adesso questo primo inghippo, prossimo appuntamento in Argentina. Sì, in Argentina è una pista che mi piace molto, sono molto ore di aereo quindi è un po' una bega, però vabbè, quella è la meno. Diciamo che potremo sicuramente lottare per le posizioni che contano, però penseremo a gara per gara.